Sono Fulvio Giuliani, mi candido perché ho fatto della partecipazione un elemento di vita dopo il terremoto. Credo che ognuno di noi debba in qualche modo ritagliare un po' di spazio nella sua vita per tentare di fare qualcosa per gli altri. Mi candido con Massimo Cialente perché è una persona per bene, perché col mare di soldi che questa città ha visto si è sempre mantenuto pulito, corretto ed è sempre stato presente con i comitati, nelle ricostruzioni, nelle manifestazioni, nel coinvolgimento della città e nel tentativo di far sapere a tutto il mondo quali sono le nostre condizioni.